Aspettavo l'uscita dal tunnel per vedere il pubblico. Quando poi indossi quella maglia ti dà delle sensazioni uniche. Ti gioca nel piccolo stadio di Sarrià a Barcellona. Cosa che ti toglieva il fiato. Tutti i giornali erano pronti a scrivere della sconfitta dell'Italia. Si scatenò una guerra contro Berzot per le scelte che aveva fatto. Hanno scritto di tutto in quel periodo. C'erano troppe cattiverie. Incontriamo Maradona, incontriamo Zico. Saperi di affrontare la prima partita contro l'Argentina. Eravamo da soli noi. Eravamo contenti di stare insieme. Partelli, partelli, segna! È cambiata la storia. Siamo qua a giocarci un mondiale. Quando sono partito a giocare a calcio non ho mai pensato di arrivare lì. Sperbisitoli Anche a salzare la più! Sperbisitoli